Scusate. Scusate. Alloraola Guerriar, LSpot Acela. Io mi c gospodaria, causa dei bambi si inti di usci Port Bo ha detto, Sono più tan carno, Tutto di uscinti. Scusate come se un, perché perché io devo lavare, perché io devo stirare, perché devo cucinare, devo pagare a questa che sta lì che è sempre un'innovazione, e allora, forse non l'ho messo pure scatto, però da freddo ho preso la prima cosa e mi cavo in campo, e allora a un certo punto io mi sono stancato, sapete, perché non è giusto che io sto così in viaggio, e quello mio marito esce, va al bar, va giù la sigaretta, va a giù la sigaretta, va a giù la mia amica e io, e che sto festa, e loro mi sono detto, marito, più sta sera esce, va da voi, e così ho fatto, ma prima di dire, perché poi c'è ancora un pensiero in mente, dico, magari in un posto dove c'è un po' di gente, mi trova pure un fidanzato, e proprio, proprio prima di uscire, ricevo una telefonata da una mia amica spagnola, e mi dice, marito, come è stato, e dice, sto buono, sto uscendo, dice, dove è stato, dove vai, e dove andare in un posto, c'è un po' di gente, e magari trova pure un fidanzato, un bel uomo, e lei mi dice, guarda, perché non l'hai alzato che è basso, che là c'è un bel uomo che io con me, dice, sta buono stasera, ma voi sapete chi è? Sì! E dove so? No! Siete dentro i denti? Fra di tutti! Ma questa è quello... Ma dette io una bella parma! Una parpuzza bella, lì capi eh, capi? Hai versato suize, sì? Capi, bene? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.